Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Si alza il velo sul palio di luglio. Questa mattina infatti è stato ufficialmente presentato il drappo che verrà assegnato al sestiere che vincerà la quintana di sabato prossimo. La cerimonia si è svolta al Palazzo dei Capitani alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, il presidente del Consiglio degli Anziani Massimo Massetti, il direttore dei musei civici Stefano Papetti e l'autrice del palio, ovvero la fermana Lucia Postacchini. Un momento molto atteso che ha dato il via al conto alla rovescia che porterà alla giostra in notturna. Nel drappo l'artista, insegnante a liceo artistico di Fermo, ha rappresentato tutti gli elementi caratteristici della quintana. Gli stemmi dei sei sestieri accanto a un cavaliere che porta il suo assalto al moro, il tutto mentre risuonano le note di una chiarina del gruppo comunale. Sullo sfondo anche la cupola della chiesa di San Francesco. Nell'opera non mancano neanche i libri in rappresentanza della vocazione culturale della città delle Cento Torri. Ho voluto rappresentare un Ascoli viva, piena di cultura, da cui germoglia la cultura stessa sotto forma di libri. Sul libro è rappresentato lo stama di Ascoli, sull'altro cecco di Ascoli, insomma un esponente della cultura ascolana. La cultura muove le montagne, la cultura può muovere le nostre menti, il nostro cervello, le nostre idee, le nostre emozioni, e quindi la montagna alle spalle si è arrovesciata. Le famose montagne di Ascoli si sono capovolte e questo è il potere della cultura, che sia letteratura, che sia musica, che sia pittura, questi hanno un grande potere su di noi. E poi ancora ho voluto rappresentare il momento culminante di gioia, di festa della Quintana, quindi il momento in cui parte il cavaliere, la clarina suona e noi siamo dentro, in questo cerchio della vita, dove c'è la vita e la morte, stanno tutti insieme, è una festa di colori, perché la vita è un attimo, se non la viviamo con la gioia, nulla c'è senso. Quindi entriamo in questa ciostra, tutti quanti, festeggiamo questi colori, festeggiamo la vita, questo ritorno alla vita, che sappiamo perché, la sappiamo bene, e quindi viviamo con questi colori primari, accostati a colori caldi freddi, e viviamo questa gara anche noi, una scommessa. Un'edizione, quella di luglio, decisamente molto attesa, perché anche la Quintana, finalmente, tornerà alla normalità. Dopo la Quintana della rinascita dello scorso anno, ci apprestiamo a vivere quella che può essere definita la Quintana della ripartenza, ovvero la Quintana come siamo abituati, quella che abbiamo lasciato prima della pandemia, non senza alcuni timori che ancora abbiamo adesso. Siamo felici, stiamo lavorando alla Clemente per garantire lo spettacolo che Ascoli merita. Tutti i componenti della grande squadra della Quintana stanno appunto portando a termine i loro lavori per poter garantire uno spettacolo unico al mondo, ovvero vedere i nostri oltre mille figuranti sfilare per le vie del centro, passare nella nostra magnifica piazza del popolo, per arrivare al campo dei giochi dove sei bravissimi cavalieri si sfideranno per portare a casa l'ambito palio. Questa è la magia chiamata Quintana e questa è la magia che stiamo per vivere e siamo tutti felici. Viva Ascoli, viva la Quintana!